Allora, cari amici, io avevo bisogno proprio di dirvi questa cosa qua e stavo un po' fremendo e lo faccio con molto piacere, vorrei salutare tutti i fans di Starsystem.tv, li voglio salutare tutti e allora quindi saluto anche me perché anch'io sono fan di Starsystem.tv, quindi un bacio a voi e un bacio a me, ciao!